Ciao artisti, questa settimana vi presentiamo la linea delle stampanti per stencil della Broder. Prima di iniziare però, non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Professional Body Supply per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Già conosciute, apprezzate e utilizzate dalla maggior parte dei tatuatori, le stampanti Broder si collocano tra gli essential per ogni studio. L'elemento distintivo di queste stampanti, come cita il produttore stesso, è che sono le stampanti portatili A4 più piccole al mondo. Inoltre, tutte le stampanti godono di garanzia italiana di 12 mesi, dove è prevista la sostituzione del prodotto difettato con uno completamente nuovo. Guardando il lato tecnico di queste stampanti, possiamo notare come le loro prestazioni siano elevate. Vediamole. La Pocket Jet 723 La Pocket Jet 763 La Pocket Jet 763 MFI E la Pocket Jet 773 Contraddistinte dalla tecnologia di stampa termica diretta, ovvero non necessitano né di inchiostro e né di toner, le stampanti Broder riproducono stampini nitidi e perfetti direttamente su carta per stensive spirit, ma anche su altre carte. Si possono stampare anche i toni, quindi lo stampino non avrà solo l'outline. Hanno una velocità di stampa fino a 8 pagine per minuto e una risoluzione di stampa fino a 300 dpi. Sono ottime per la portabilità, dato che il loro peso varia tra i 470 e i 480 grammi, mentre le dimensioni sono di 3x5,5x25,5 cm. Le caratteristiche tecniche sono pressoché identiche. Ciò che va preso in considerazione per scegliere la stampante Broder perfetta per voi è la modalità di invio per lo stencil. La Pocket Jet 723 è il modello base. Accetta unicamente la connessione tramite USB, quindi può essere utilizzata solo via cavo. Ideale per chi manda i stampa agli stencil solo da computer. I modelli 763 e 763 MFi introducono la connessione Bluetooth per l'invio senza cavi tramite qualsiasi dispositivo che lo supporti. La versione PJ763 accetta connessioni Bluetooth solo da dispositivi Android, mentre con la PJ763 MFi la compatibilità è stata estesa anche ai dispositivi Apple con sistema operativo iOS. Questa soluzione è particolarmente indicata quando la stampante è condivisa da più attuatori dello stesso studio e le stampe sono inviate da dispositivi diversi. In entrambe è sempre presente la connessione USB. La PJ773 abbandona il Bluetooth ma fornisce la possibilità di essere raggiunta tramite il Wi-Fi. La stampante può essere collegata ad un Wi-Fi esistente ed essere sempre raggiungibile da tutti i dispositivi collegati alla stessa rete. Nel caso in cui non ci fosse una rete disponibile, la PJ773 potrà creare una propria connessione Wi-Fi dedicata esclusivamente alla trasmissione dei dati per la stampa. La connessione Wi-Fi presente in questo modello è sicuramente la soluzione migliore per gli studi medio-grandi. In questo modo infatti la stampa senza cavi può essere eseguita da computer, smartphone o tablet senza nessun problema di compatibilità. Anche nella 773 rimane disponibile la connessione USB. Inoltre per tutti i modelli è possibile comprare una batteria a parte che non è compresa nella confezione. Infatti al suo interno, oltre alla Brother, troviamo il cavo di alimentazione. Per acquistare le stampanti Brother basta andare su bodysupply.com o cliccare il link in descrizione. Se avete ancora delle domande o volete dirci cosa ne pensate di questo prodotto, scrivetelo pure in basso nei commenti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti!